Buonasera, ringrazio il Vicepresidente Andreis, chiedo scusa ma ho finito di lavorare alle 20. Quindi si torna, mi stanno dicendo, alla prima interrogazione, protocollo 14808, la parola al Consigliere Roberto Mei. Determine dirigenziale numero 750 del 15-7-2010, riferimento buon mercato. Premesso che in data 15 luglio 2010, con determina di dirigente numero 750, si è dato impegno di spesa pari ad euro 7902,66 per l'affidamento della gestione dell'attività di scambio, vendita di prodotti agricoli, formazione ed iniziativa degli spazi di via Roma numero 14 al circolo cooperativo Acli, con sede in via Monti numero 5 a Corsico per il periodo luglio-settembre 2010. Posso, signor Presidente, posso andare avanti? Prego, prego. No, perché poi si è primi. Grazie. Premesso che nella stessa determina si scrive di approvare il subentro a forum cooperazione e tecnologia nella gestione delle attività di scambio, vendita dei prodotti agricoli, formazione ed iniziativa degli spazi di via Roma numero 14 a Corsico, nell'ambito del progetto buon mercato del circolo cooperativo Acli, con sede in via Monti numero 5 a Corsico. Considerato che nel terzo capoverso della determina in oggetto si recita, a tal fine il circolo Acli, cooperativo Acli, con sede in via Monti numero 5 a Corsico, ha fatto pervenire un'offerta per la gestione delle attività di scambio, vendita dei prodotti agricoli, formazione ed iniziativa degli spazi di via Roma numero 14 a Corsico, nell'ambito del progetto buon mercato. Relativa al periodo luglio-settembre 2010 per un importo di euro 6.585,55 più IVA. Visto che l'accettazione e l'inserimento della presente determina nell'arbo pretorio, chiedo 1. Come e perché è subentrato il circolo cooperativo Acli al forum cooperativa e territorio, nella gestione del progetto buon mercato. 2. Di sapere se il subentro del circolo cooperativo Acli nella gestione del progetto buon mercato è stato indetto un bando o una licitazione privata e se hanno partecipato altre realtà oltre al predetto circolo cooperativo. 3. La durata del progetto buon mercato e la durata del coinvolgimento della fondazione Cariplo. Buonasera a tutte e tutti e mi scuso per essere arrivata tardi, anche io ho finito di lavorare meno di un'ora fa. Rispondo schematicamente ai tre punti sottoposti dal consigliere May. Punto 1. Come e perché è subentrato il circolo cooperativo Acli a forum cooperativa e tecnologia nella gestione del progetto buon mercato. L'affidamento della gestione delle attività di scambio, vendita dei prodotti agricoli, formazione e iniziativa degli spazi di via Roma 14 al circolo cooperativo Acli, con sede in via Monti 5 a Corsico, periodo luglio-settembre 2010, è da intendersi come il servizio prestato da personale appositamente formato nella gestione degli ordini e in particolare presente all'interno della struttura di via Roma nell'orario di apertura al pubblico per la consegna dei prodotti precedentemente ordinati. Il circolo Acli, già partner di rete del progetto, non a caso i circoli Acli sono citati già nella stesura del progetto approvata dalla Giunta Comunale con delibera 72 del 21 aprile 2009, quali soggetti da coinvolgere a vario titolo, avendo già esperienza nella gestione di personale parasubordinato e non essendo più possibile all'interno del progetto Buon Mercato questa funzione da parte di Forum Cooperazione e Tecnologia, lo si era individuato per rilevare il personale, già nel giugno 2010, formato da Forum Cooperazione e Tecnologia, per gestire gli ordinativi dei soci di Buon Mercato. Lo spostamento del servizio di gestione delle attività di scambio da Forum Cooperazione e Tecnologia al circolo Acli di Corsico allora era stato avvallato dalla Fondazione Cariplo, che di fatto ha poi considerato positivamente tutte le rendicontazioni del caso. La Fondazione Cariplo, nella nota del 26 aprile 2010, specifica di non aderire alla proposta loro formulata, che tra l'altro prevedeva che il personale che avrebbe gestito le attività di scambio nello spazio di Via Roma sarebbe stato incaricato e rintribuito da Forum Cooperazione e Tecnologia. In merito al punto 2, cioè di sapere se per il subentro del circolo cooperativo Acli, nella gestione del progetto Buon Mercato, che è stato indetto un bando o una licitazione privata, e se hanno partecipato altre realtà, oltre al predetto circolo cooperativo, rispondiamo che no, in quanto non dovuto. Peraltro il circolo Acli di Corsico era già partner di rete del progetto, ovvero già partecipava a quale soggetto interessato, presente sul territorio, allo sviluppo del progetto. Punto 3. La durata del progetto Buon Mercato, e la durata del coinvolgimento della Fondazione Cariplo? Il progetto è durato 16 mesi, fino al 31-12-2010. Inizialmente doveva durare 12 mesi, ma poi l'oggettiva complessità ha comportato una richiesta di prolungamento dei termini accettata dalla Fondazione Cariplo. La Fondazione Cariplo ha approvato e cofinanziato il progetto, seguendolo in tutte le fasi, fino alla rendicontazione finale, sulla base della quale è stato erogato dalla Fondazione Cariplo il contributo previsto di 100.000 euro. Consigliere May, soddisfatto o meno? No, allora, le spiego anche subito il perché. Allora, la delibera numero 72, io oramai lo so a memoria, io non recita e non fa menzione, Assessore, se vuole ce l'ho qua, non fa menzione in nessuna riga, meno che io ho visto, se no devo cambiare gli occhiali probabilmente, del Circolo Acli, la delibera numero 72 del 21-4-2009, giusto? Mi corregga se è questa? Sì, quella, quella. Praticamente non fa altro che approvazione del progetto definitivo, perché prima c'è stato un progetto di massima, è stato presentato con un'altra delibera, un progetto di massima, poi i costi erano esorbitanti, si sono ridotti un pochettino e alla fine si è dato il via libera con questa delibera. Però io su questa delibera non vedo assolutamente il nome, ma neanche in una tabella, ok? Io non vedo il nome delle Acli, ma sa perché non lo vedo? Perché era ancora un progetto che doveva iniziare, infatti tanto è vero che il titolo della delibera dice approvazione del progetto definitivo per la partecipazione al bando. Quindi cosa si chiedeva? Praticamente noi proponiamo un progetto che si chiama della filiera corta, e lo proponiamo in Regione Lombardia. Vediamo se abbiamo gli aiuti. Allora, il mio discorso è, lei fa riferimento a questa delibera e su questa delibera le Acli non ci sono. La cosa che mi dispiace, sa cos'è, è che io penso che ci siano state altre, o ci potrebbero essere, delle altre realtà sul territorio, oltre che alle Acli. Perché, vedi, siamo sempre lì, no? Allora, il mio collega era assessore prima di lei, poi guarda caso c'è l'atto costitutivo, no? E lui è presidente. Contestualmente a che era assessore. Sì, c'ho l'atto costitutivo. Poi guarda caso, io mi vedo che lo stesso soggetto che poi si firma, si firma, assessore mi guardi per piacere, si firma, ok? Perché voi, come giunta, per cambiare la sede da Via Roma, ok, al Parco Cabassina, c'è stata una prima delibera di giunta bloccata perché qualcuno si è ricordato che il collega era da sette giorni consigliere comunale. Allora hanno detto, no, aspetta, prima che facciamo un'altra boiata, perché ne hanno già fatto un'altra di boiata, ma non ne facciamo un'altra. Allora hanno stoppato tutto, hanno messo un altro signore. Questo signore, guarda caso, è responsabile del circolo Acli. Allora vede che poi uno dice, ma perché io devo andare a pensare male? Cioè mi mettete voi in condizioni di pensare male? Siete voi che mi mettete in condizioni di pensare male. E guardi che non è finita qua. Ci rivedremo per i costi. Ci rivedremo per i costi. Allora, io quello che le chiedo, assessore, mi perdoni, sarò un po' tardo, ma lei mi faccia per piacere vedere sulla delibera numero 72 dove c'è scritto Acli come partnership. Non c'è, assessore, non c'è, sono tre. Sono tre. Non c'è, qua sopra. Non c'è. Perché poi, vede, le ripeto, siamo sempre lì, giriamo intorno al bicchiere pieno d'acqua, mezzo pieno, mezzo vuoto. Io questo voglio sapere. Non c'è sulla delibera 72. Lei fa riferimento a questa. Benissimo. Poi uno viene a dire, ma perché non facciamo un bando? Ci sono delle realtà diverse? Prendiamo in considerazione? No. Perché l'Acli c'era già prima. Poi io vado a vedere l'atto costitutivo di, del, dello statuto di buon mercato 10 gennaio 2010 e mi vedo come presidente e mi vedo come presidente e vabbè insomma qui oramai l'etica è andata a farsi friggere ok? E poi mi vedo il soggetto che ha firmato poi che è subentrato perché se lei va a vedere la delibera di, del 2012 di settembre ottobre se vuole ce l'ho qua questo stesso signore che è vicepresidente era vicepresidente al giorno al 10 di gennaio del 2010 ok? È diventato guarda caso presidente delle Acli del circolo Acli guarda caso è diventato responsabile perché mi fate pensare male? Grazie. Allora consigliere May allora posso parlare? se lei avesse prestato attenzione a quello che ho detto e lo rileggo perché ce l'ho scritto ho detto che il circolo Acli era già partner di rete non partner sto parlando presidente posso parlare? Consigliere May non è stato interrotto lasci concludere si si no no calma 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 lasci 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 siamo nelle interrogazioni dicevo il circolo Acli era già partner di rete del progetto non era partner del progetto era partner di rete non a caso i circoli Acli sono già citati nella stesura del progetto approvata dalla giunta comunale con delibera 72 del 21 aprile 2009 quali soggetti da coinvolgere a vario titolo questo vuol dire che non era indicato all'interno della delibera 72 ma era indicato nella stesura del progetto approvata con quella delibera questo è facilmente verificabile dopodiché rispetto al fatto che per progetti così complessi innovativi originali delicati che portano avanti istanze completamente nuove portano avanti un modo diverso completo di fare economia portano avanti un'economia della relazione un'economia solidale portano avanti dei temi che sono talvolta poco capiti talvolta osteggiati perché consideriamo che si sta parlando di un progetto che sappiamo bene essere stato riconosciuto a livello italiano europeo internazionale come un progetto assolutamente innovativo e settimana all'altra in regione Lombardia è stato presentato all'interno di un contesto europeo come uno dei tre progetti di eccellenza della regione Lombardia e lunedì 11 novembre sarà presentato all'Urban Center di Galleria Vittorio Emanuele ancora in questo contesto legato ad Espo assieme alla vice sindaca milanese De Cesaris quindi diciamo che è un progetto decisamente innovativo è importante ma proprio per questo per progetti così delicati e complessi è necessario capire quali sono i partner di rete e come riuscire a portarli avanti nella fase iniziale di start up che è la fase più complessa quindi in questo senso quando c'è stato da indicare e trovare qualcun altro che avesse le competenze per poter subentrare a forum cooperative e tecnologie si è valutato che Acli avesse i prerequisiti sostanziali e formali dopodiché allo stesso modo quando c'è stato da definire un nuovo presidente il signor Andrea Villa ha accettato la nostra proposta di subentrare perché in quel momento sembrava essere la persona più adeguata e vi assicuro che non è che quando bisogna trovare un nuovo presidente c'è un'alzata di mano pazzesca di gente che lo vuole fare tanto che visto che lei è così informato dei fatti sa anche bene che la presidenza di Andrea Villa è durata pochissimi mesi e infatti noi adesso abbiamo un altro presidente che si chiama Gennaro Pepe questo a dire che l'intenzione è sempre stata quella di gestire il progetto con una massima trasparenza e di portare avanti le istanze che questa amministrazione ha deciso di portare avanti per cambiare gli stili di vita e per ragionare su un nuovo modo di fare cultura e di fare anche acquisti avendo avendo a cuore il bene comune di questa città e avendo a cuore anche gli interessi dei produttori del parco agricolo sud e volendo tutelare e valorizzare il parco agricolo sud Milano grazie quindi è chiudo no non c'è no perché altrimenti no ma non è un piacere non piacere non c'è dibattito ma mi scusi ma non ha risposto alla domanda non c'è dibattito nelle interrogazioni non c'è ragazzi su mi dispiace io volevo solamente chiedere una cosa non è soddisfatto ritiene di aver risposto così ma non possono dire queste cose che saranno anche noi i vetri si arrangano non c'è dibattito nelle interrogazioni consigliere May io volevo solamente far leggere al segretario il progetto allegato visto che ha fatto una dichiarazione consigliere May ha fatto un lunghissimo intervento peraltro che non sarebbe concesso alle interrogazioni si risponde con una dichiarazione di soddisfazione non farò l'ordine del giorno dai ho capito no farò l'ordine del giorno così a meno discutiamone e viene fuori tutto dai grazie non è possibile dobbiamo dare tempo di riavvolgere il nastro la fase delle interrogazioni è chiusa mi interesse